Deve essere così? No Offensivo A me e a tutti i cittadini americani e anche italiani Mi fa girare il stomaco, vero? Illusione totale Non riesce neanche a contantare le esigenze dei bambini È una roba a dir poco inquietante Illusione Illusione Va a cagare Mi stai deludendo, poi che moro Fa schifo, è una m***a È sbagliato completamente Non è possibile Sei aria fritta Illusione Fa schifo Sì Fa cagare Mi 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 Grazie a tutti.